Siamo in compagnia della professoressa Lidia Angelieri, delegato del Rettore all'internazionalizzazione. Buongiorno. Buongiorno. L'offerta formativa dell'Università di Verona si fa sempre più internazionale. Ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo, dunque abbiamo, come l'anno scorso, abbiamo i corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale in lingua straniera e l'offerta è aumentata, abbiamo Economics, Linguistics e Mathematics che avevamo già l'anno scorso e poi due nuovi corsi di laurea magistrale, uno è International Economics and Business Management e l'altro è Molecular and Medical Biotechnology, quindi sono in tutto cinque corsi di laurea magistrale tenuti in lingua straniera e questo significa, e questa diciamo è una particolarità di Verona, non solo che i nostri docenti fanno lezioni in lingua inglese ma anche che abbiamo, c'è un coinvolgimento di docenti provenienti da Atenei stranieri, abbiamo in totale l'anno scorso mettendo insieme vari programmi abbiamo avuto circa 70 docenti provenienti da Atenei stranieri che sono stati coinvolti nella didattica del nostro Ateneo e questo significa che alcuni di loro, diciamo gran parte di loro tengono parte di un insegnamento e quindi si fermano qui per due o tre settimane alcuni invece addirittura sono titolari di un intero insegnamento e quindi si fermano qua per uno o due semestri inoltre abbiamo anche un doppio titolo che parte quest'anno, è un doppio titolo con l'Università di Augsburg in ambito umanistico e stiamo lavorando allo sviluppo di nuovi doppi titoli con altre università Questo grazie anche alla mobilità studentesca? Sì, abbiamo anche la mobilità studentesca, quest'anno sono stati circa 500 dei nostri studenti hanno passato uno o due semestri presso un'università straniera sia all'interno del programma Erasmus sia anche all'interno di un nostro programma di Ateneo che si chiama World Wide Study nell'ambito del quale i nostri studenti passano un semestre presso un'università partner extraeuropea e queste università sono nell'America del Nord, in America del Sud, in Corea, Giappone e Russia Mentre per gli studenti stranieri che arrivano in Italia? Per gli studenti stranieri abbiamo varie attività uno è abbiamo delle borse per gli studenti stranieri di provenienza extraeuropea più meritevoli per iscriversi ai nostri corsi di studio tenuti in lingua straniera poi abbiamo, questa è una novità di quest'anno, abbiamo un welcome office che li aiuta nell'accoglienza quando arrivano e anche prima dell'arrivo per tutto quello che riguarda il visto, il permesso di soggiorno poi li aiuta a trovare un alloggio e poi qui li aiuta ad ambientarsi sia nella città che nell'università di Verona e noi speriamo di avere sempre più studenti stranieri perché pensiamo che sia un arricchimento per il nostro Ateneo La ringrazio Grazie